Noi stiamo portando avanti la nostra battaglia su tutti i terreni, quindi quello giudiziario abbiamo già depositato il primo ricorso e stiamo per depositare i motivi aggiunti avverso il decreto autorizzatorio del 7 marzo e stiamo tentando un'interlocuzione politica in una fase tra l'altro molto difficile perché il vecchio governo ormai in ordinaria amministrazione ormai di missionario ma il nuovo non si forma e in questo avvacazio però le procedure stanno andando avanti. Di Marco oggi avete ribadito la contrarietà al progetto SNAM sul Mona e invitato tutti alla manifestazione del 21. Sì è un appuntamento importante perché a nostro avviso ci troviamo di fronte a un'opera non più utile al territorio e non ha nemmeno più un senso strategico visto comunque anche i cali di consumi del gas ma soprattutto l'importanza di uscire fuori dalle fossili con un'energia alternativa, un'energia rinnovabile al punto e benvenga anche il decreto sul biometano che dà una direzione positiva in questa direzione. Fronte comune tra le associazioni ambientaliste ed il comune di Sul Mona in vista di questa manifestazione del 21? Sicuramente sì, il 21 aprile è un'investazione interregionale che coinvolge le istituzioni e coinvolge i cittadini per cui non c'è niente di strano che il comune e le associazioni si muovano in parallelo per lo scopo unico che è quello di fermare un'opera sbagliata, superata nei tempi e che non porterà nulla di positivo al territorio, anzi potrebbe portare tantissime cose negative. Serve soprattutto ai grandi poteri industriali per poter realizzare delle cose che in effetti sono difficili da digerire da un punto di vista ambientalistico ma anche di tipo economico. riteniamo che questa nostra opposizione non soltanto si realizzerà attraverso la nostra presenza alla manifestazione del 21 aprile a Sul Mona ma anche attraverso la nostra partecipazione ad adiuvandum al ricorso che si sta portando avanti a livello di TAR. A tal proposito io voglio fare un appello a tutti i parlamentari abruzzesi proprio perché in questa fase così importante per la prosecuzione di questo percorso si facciano parte attiva anche all'interno del Parlamento perché si blocchi questa procedura e si aspetti che il nuovo governo si possa esprimere e possa interloquire finalmente con i territori perché quest'opera venga scongiurata.